Un super scudo da 150 miliardi per il nostro sistema bancario. La Commissione europea ha annunciato il via libera alla richiesta dell'Italia per poter utilizzare una garanzia pubblica per sostenere il sistema creditizio. Per ragioni precauzionali, come ha sottolineato la portavoce della Commissione, non c'è l'aspettativa spiegato che emerga la necessità di usare lo scudo. Si tratta di una cifra che rappresenta i tre quarti delle sofferenze lorde del sistema creditizio italiano e potrebbe servire per eventuali aumenti di capitale varate nei prossimi sei mesi dalle banche italiane che hanno bisogno di ricapitalizzarsi a fronte di una svalutazione.